Salve a tutti in questo video vediamo come costruire su Fields of Mistria, quindi tutorial sul crafting. Allora, prima di tutto vi faccio vedere dov'è la carpenteria, vedete dalla fattoria è a nord e poi ad est. Andiamo di qua. E in carpenteria troviamo sia un tavolo da lavoro all'esterno dell'edificio, sia dentro, nel negozio, possiamo comprare il nostro tavolo crafting da poter collocare dove vogliamo. Quindi, eccola lassù, vedete, ora vado avanti, taglio comunque tutto a nord. Questo qua fuori il tavolo, mentre dentro, nel negozio, possiamo acquistare per mille monete il tavolo crafting. Eccolo qui, questa qui, station crafting. Ora, in questo caso non voglio fare nessuna delle due cose, vi faccio vedere dove sta l'altro tavolo crafting. Si trova proprio a Mistria, quindi ovest da qui, più o meno centro città, vicino alla fontana. Io adesso vado lì perché ho il tutorial, la missione tutorial sul crafting. Eccolo là, vedete, dove sta lavorando il tizio è un altro tavolo da lavoro che possiamo sfruttare. Ora, come funziona il crafting? Serve innanzitutto un grado di abilità e servono ovviamente i materiali e anche del tempo a disposizione. Infatti, per ogni cosa che dobbiamo costruire c'è il tempo che poi andrà avanti nella realtà. Ma vi faccio vedere con un esempio. Allora, vedete? Selezioniamo la ricetta, ovvero la cosa che vogliamo costruire, gli ingredienti se ce l'abbiamo, quindi i materiali, ecco in questo caso, e poi questa è l'abilità. E poi andiamo avanti. Qui dice di sbloccare anche dei perks. Allora, vi faccio vedere dal menu come si presenta. Queste sono le cose che possiamo costruire. Ci sono tante categorie, tante vanno sbloccate, si possono comprare le ricette oppure trovare. Quindi non c'è tutto quanto quello che possiamo costruire fin dall'inizio. Usiamo questo. Il legno ce l'abbiamo a casa, quindi il baule fa inventario anche se a casa. Il grado 1 è, in questo caso 4, vedete? È l'abilità che serve, non ce l'abbiamo. Quindi cominciamo a costruire a caso, vedete, serve 10 minuti, e vedete che man mano che costruiamo sale il grado di abilità crafting. Quindi vi consiglio di costruire a manetta cose piccole per poter aumentare il grado, almeno fino a 4. Poi in basso vedete anche il tempo che serve per costruire. Potete costruire più o meno cose, proprio con il simbolo più o meno a livello di quantità. E questo è quanto. Tutte le cose costruite andranno nel vostro inventario. E c'è veramente tanta roba da costruire, più che altro ci sarà da trovare le varie ricette, le pergamene che vi consentiranno poi di costruire tutte le varie cose. Un saluto!